Luca Chiappini, 3-1 sul Club Italia, serviva una prova di carattere per prendere i primi tre punti della stagione, tranne quel passaggio a vuoto nel terzo set, Filottrano ha dimostrato di essere un'ottima squadra. Guarda, la prova di carattere l'avevamo già fatta domenica con Scandici, dove avevamo giocato, secondo me, un buon ritmo, una buona intensità. Mancavano i punti, questa è ragione, stasera sono arrivati e sono molto contento. Quel passaggio a vuoto nel terzo set? L'allenatore del Club Italia ha invertito le schiacciatrici, ha aggiunto una centrale che comunque è già di altissimo livello, quindi probabilmente è stato più merito dell'avversario che il demerito nostro. E adesso? È ora un giorno di riposo e poi si riprende a lavorare per Brescia.